crescono le opportunità di accesso al credito per le piccole e medie imprese della provincia dell'Aquila. E' stata infatti siglata una nuova convenzione fra il Confidicop Credito, Espressione della Confesercenti e la Banca di Credito Cooperativo di Roma, una delle più capillari presenti sul territorio della provincia. La nuova intesa introduce nuovi prodotti nella convenzione rendendola più efficace, snella e adatta alle esigenze delle imprese del territorio. Le partnership con gli istituti di credito di respiro locale sono da sempre rilevanti per il nostro territorio, spiega il direttore provinciale di Confesercenti Carlo Rossi e per questo abbiamo voluto riorganizzare la convenzione con la BCC di Roma che si sta attestando come una delle più presenti sul territorio aquilano. La convenzione prevede vari prodotti dall'anticipo di contributi su fatture e contratti a salvo buon fine all'apertura di credito in conto corrente ai mutui chirografari per liquidità investimenti e scorte fino a 84 mesi mutui ipotecari fino a 84 mesi. La Copcredito Confesercenti è attiva nella provincia aquilana. La sede sul Monese è ubicata in via marcante. La Copcredito Confesercenti è attiva in via marcante.